2016 direi che è stata l'annata più gloriosa per la nostra società negli ultimi tempi, siamo arrivati quinti in classifica nazionale, abbiamo vinto un mondiale junior, tantissime maglie azzurre, partecipazioni quindi a competizioni internazionali, convocazioni, molti titoli italiani, un'annata boom e sarà difficile adesso la sfida è mantenere questo livello. Quali saranno gli impegni più importanti? Gli impegni più importanti sono i soliti, quest'anno è l'annata post-olimpica, quindi abbiamo un paio di maglie azzurre convocate che sono nel giro e quindi l'obiettivo è di fare una partecipazione in crescita, di inserimento di questi ragazzi nella squadra azzurra, nel giro azzurro e ovviamente portare avanti tutto il resto della squadra a livello nazionale, alle competizioni nazionali. E dai tuoi ragazzi cosa ti aspetti? Hai un sogno nel cassetto? Dunque il sogno è Tokyo 2020. Noi devo dire che senza vergogna lo diciamo, perché senza la molla e la spinta agonistica di cercare di sognare un palco internazionale, un palco olimpico, allora viene meno tutto. Quindi noi in fondo ai nostri pensieri abbiamo questo qua, lo tiriamo fuori, lo diciamo perché se no non esisteremmo, non esisterebbe lo sport e non esisterebbe la competizione. Invece noi traguardiamo questo come il motore principale che ci fa andare avanti. Tutto il resto viene dopo, ci sta, è un contorno, quindi la società, i soci, la squadra B, le seconde linee e tutto quanto. Ma il vero motore di un'attività agonistica spinta è ambire e sognare al massimo. Quindi noi sogniamo Tokyo 2020. Elpis, stelle nello sport, con la collaborazione dello Yacht Club italiano, un grandissimo evento il 2 giugno, una gara di costa rowing a Punta Vagno, un evento incredibile, baciato dal sole. Sì, sole, focaccia, spruzzi di mare, acqua salata. È la quarta edizione di una regata che abbiamo rinominato e reinventato, si chiama Mille Remi in Schumann, quindi prende anche un po' il nome dalla famosa regata dello Yacht Club, che era la Mille Vele. Tant'è vero che lo Yacht Club è un nostro partner, insomma ci dà una mano nell'organizzazione di questa regata. È una cosa simpatica, vengono da tutta Italia, non proprio tutto, diciamo Nord Italia, società amiche, vengono anche dei monegaschi e dei francesi. 2 giugno, festa della Repubblica, appuntamento fisso con questa nostra manifestazione. Non è una manifestazione, ovviamente, è una gara promozionale, quindi di portata regionale, ma dà sempre grossa soddisfazione. Regata è aperta a tutte le fasce d'età? È aperta a tutte le fasce d'età, ovviamente poi ci sono le classifiche di genere, uomini e donne, e poi le classifiche master e senior, quindi cerchiamo di accorpare, cerchiamo di far divertire tutti. C'è competizione e poi mangiamo e brindiamo e beviamo sulla nostra terrazza, baciati dal sole.